È da 15 anni un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati campani e non solo dell'atletica. Arriveranno infatti migliaia anche da altre regioni i podisti per partecipare al Memorial Franco De Maio, organizzato dal nuovo Circolo Nocerino e dalle associazioni sportive Isaura e Folgore, con la collaborazione del Comune di Nocera Inferiore. Entusiasta il sindaco Maglio Torquato anche per il fatto di avere tra i suoi consiglieri di maggioranza Paolo De Maio, uno dei figli dell'indimenticato Franco. Insieme ai miei fratelli e con mia madre continuiamo con l'aiuto di tanti amici, oltre che del Circolo e quindi amici di papà, quindi con le società sportive con le quali gareggiava mio padre, quindi la Folgore, l'Isaura Valle dell'Irno, l'organizzazione di questo Memorial che si protrae da 15 anni. E sono felice anche e soprattutto in virtù del fatto che Nocera vive questo evento, diciamo lo aspetta, lo desidera e quindi lo sente suo e questo mi riempie di gioia. Quest'anno la simbolica quota di iscrizione, ha spiegato il responsabile organizzativo Nicola Padovano, sarà devoluta all'Associazione Italiana contro le leucemie. Ricordo che senza l'AIL l'attività autotrapiantologica non sarebbe potuta essere implementata e ha continuato il suo sostegno in maniera fattiva, ha contribuito all'arredo, attrezzature, macchina in concomitanza con l'apertura del polo oncologico di Pagani e al momento attuale è di grandissimo sostegno per l'unità operativa di ematologia che si aprirà all'ospedale San Leonardo di Salerno da qui a poco, che sarà un'altra realtà che dovrebbe coprire il fabbisogno della popolazione della provincia. Quindi benvengano queste iniziative.